Buonasera a tutti, bentornati sul canale. Questa sera ho preparato per voi una lettura molto rapida, veloce ma anche incisiva, quindi volevate magari una risposta su una determinata situazione. E abbiamo preparato più varianti per voi, proprio in modo da potervi dare una risposta ancora più precisa del solito. Ora vi faccio vedere tutte le varianti e poi vi chiedo di sceglierne solo una, se riuscite. Se dovesse essere che vi attirino di più potete ascoltarle, però cercate di sceglierne una perché probabilmente la risposta potrebbe essere molto precisa. Andiamo a vedere i testimoni. Variante numero 1 abbiamo una pigna. Variante numero 2 abbiamo questo boccettino di incensi. Variante numero 3 abbiamo una runa con il simbolo della luna. Variante numero 4 abbiamo questa statuetta fatta in legno da una cara amica che praticamente rappresenta una vecchia rappresentazione della Dea Madre per gli antichi. Con le corna. Variante numero 5 abbiamo questo cristallo che è una labradorite. E variante numero 6 abbiamo questo cubetto nero di polistirolo, gomma a piuma. Cercate di fare la vostra scelta con l'intuizione e vi ricordo che questo video vale dal momento in cui lo aprite, quindi anche pubblicato mesi fa o anni fa non ha importanza, è sempre valido. Vi ricordo inoltre che nell'info box trovate i timestamps con tutte le tempistiche delle varie varianti e trovate anche il mio account Instagram e la mia email. Se volete seguirmi anche su Instagram pubblico sempre delle storie con dei contenuti molto interessanti che secondo me possono anche fare al caso vostro. Ora vado subito con la variante numero 1 della pigna, se avete bisogno di più tempo mettete pure in pausa il video. Variante 1 la pigna, andiamo a vedere cosa dicono le tue carte. Ovviamente abbiamo la carta di lasciati andare al contrario e poi abbiamo la carta di no. Allora qua alcuni di voi potrebbero avere una situazione da affrontare, magari una situazione sentimentale per la maggior parte. Però qua l'oracolo vi dice che se volete fidarvi, lasciarvi andare con questa persona, purtroppo la risposta è negativa. Perché non potete eventualmente fidarvi di questa persona evidentemente. E' un pericolo lasciarsi andare. Potreste avere a che fare con qualcuno di ingannevole e onestamente mi arriva l'energia di un narcisista, quindi attenzione. Non lasciatevi andare perché se vi lasciate andare questa persona potrebbe farvi molto male. Questo è quello che sento, quindi ve lo dico. E la risposta è un no. Nella carta del no abbiamo un angelo che arriva verso questa donna, quindi potrebbe essere qualcosa che vi arrivi anche dal più profondo di voi. Quindi lo sapete interiormente, internamente. Magari avete anche ricevuto vari segnali, eccetera, che questa non è una persona della quale potete fidarvi. Quindi ascoltate questa sensazione. Inoltre abbiamo il molto colore verde in quella carta. Quindi mi sento di dirvi che c'è bisogno anche di una guarigione molto molto importante, molto profonda dopo aver vissuto questa relazione. Potreste trovarvi in una situazione anche di destabilizzazione. Quindi attenzione a questa cosa. Cercate di togliervi fuori, tirarvi fuori da questa relazione il prima possibile. Perché per avere un risultato del genere, secondo me, qua potremmo avere anche a che fare con degli abusi psicologici. Ok, fatemi sapere se è risuonato con voi. Comunque nei commenti, se state vivendo questo, per favore ditemelo che mi dispiace molto. Magari se ne può parlare. Insomma, spero che almeno qui possiate trovare un posto in cui sfogarvi o nel quale poter esprimere cosa provate. Fatemi sapere se è risuonato con voi. Io passo alla variante 2 e noi ci vediamo domani sempre alle 20. Eccoci qui, variante 2 con il botticino di incenso. Vediamo cosa dicono le tue carte. Sei nel tuo potere. Opportunità. Allora, voi secondo me siete entrati nel vostro potere da un po'. Magari non da tantissimo. Perché potreste aver terminato una relazione molto difficoltosa. Oppure anche potreste esservi lasciati alle spalle in un periodo particolarmente difficile. oppure potreste stare attraversando un periodo particolarmente difficile, in realtà essere molto forti e avere tirato fuori quello che è il vostro potere. Quindi combattere questa cosa con quello che è il vostro potere. Però allo stesso tempo è come se non ve ne accorgeste. Non vi rendeste conto che siete nel vostro potere. Quindi attenzione a questa cosa perché non dovete autosabotarvi. A volte pensare negativo, anche se si ha il potere, anche se si hanno tutte le capacità, può portare a un meccanismo della mente che vi autosabota. Quindi attenzione a questo. Perché qui la carta dell'oracolo mi dice che ci sono delle opportunità. C'è una nuova opportunità che potrebbe essere entrata nella vostra vita da poco. Oppure potrebbe esserci un'opportunità che entrerà a breve. Oppure un'altra lettura potrebbe essere che se voi cambiate il vostro mindset, quindi vi rendete conto di essere effettivamente già nel vostro potere. Quindi di avere il potere di cambiare la vostra realtà. Allora lì inizieranno ad arrivare le opportunità. Se ancora non sono arrivate è per questo. Quindi cambiate il vostro mindset e vedrete che cambierà anche la realtà. La realtà si deve necessariamente conformare a quello che è il vostro mindset mentale. Quindi cambiate quello e cambierà anche tutto il resto. Fatemi sapere se è risuonato questa lettura. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 e io passo alla variante numero 3. Eccoci qui, variante 3, la luna. Vediamo un po' cosa dicono le carte. È solo questione di tempo che però è al contrario. Un anno da adesso. Allora, qua abbiamo una tempistica. Io non mi fido mai molto con le carte sulle tempistiche, ve lo dico, quindi non prendetela per oro colato. Però indicativamente adesso praticamente le carte ci stanno dando una tempistica indicativa, ripeto, sulla base della frequenza energetica che voi state vibrando in questo momento. Quindi se voi cambiate la vostra frequenza energetica in meglio, potete velocezzare la tempistica. Se la cambiate in peggio, potete allungare la tempistica. Questo è quello che accade realmente. In questo momento, con l'energia che avete adesso, la tempistica è un anno. Da adesso. Qualsiasi cosa vogliate fare, sia che vogliate magari perseguire un obiettivo lavorativo, o insomma di vita, qualche vostra passione, qualche cosa, o anche una persona, magari un amore, qualcuno che al momento nella vostra vita non è disponibile, sappiate che questa cosa è possibile in realtà. In realtà sapete cosa vedo qui? Vedo la carta che dice è solo questione di tempo. Quindi cosa significa? In realtà questa cosa è già vostra e vi è predestinata, o questa persona. Ma voi non lo credete possibile? Il fatto è che è solo questione di tempo prima che questa persona venga a voi. È solo questione di tempo. Se voi entrate in questo, anzi giriamola al contrario così magari vi aiuta a percepire tutto quanto diversamente, è solo questione di tempo che voi riceviate quello che sperate, quello che sognate. Se voi entrate in questa mentalità, le cose arrivano. E infatti vi dice di osservarlo. La carta era al contrario perché è come se voi non lo realizzaste, non lo vedeste, non voleste accettarlo. E di conseguenza fate ovviamente il vostro male. Quindi per favore cercate di cambiare la vostra percezione perché in realtà potete fare assolutamente tutto quello che volete. So che magari avete molta confusione, non credete nel vostro potere personale, ma la realtà è questa qua. Quindi è solo questione di tempo, quello che desiderate arriverà. Non vi preoccupate, non temete. Potemi sapere se è risuonato con voi questa lettura, spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 e io posso alla variante numero 4. Eccoci qui, variante 4, con la nostra statuina. Andiamo a vedere che cosa dicono le tue carte. Sei sulla strada giusta? Chiede ai tuoi angeli. Allora, alcuni di voi hanno magari lasciato indietro qualcosa a cui tenevano molto per dedicarsi a un percorso migliore per sé. Quindi magari avete iniziato a occuparvi di voi stessi o voi stessi dopo una rottura, oppure potreste aver cambiato strada di vostra spontanea volontà. Potrebbe esserci stato qualcosa che ha scatenato questo cambiamento, oppure potreste essere stati voi a prendere la decisione di vostro pugno. In entrambi i casi sappiate che avete preso la decisione giusta o che la strada sulla quale ora siete è la strada giusta. Quindi quello che doveva succedere, se non l'avete deciso voi, doveva succedere. Siete sulla strada giusta e andrà tutto quanto per il meglio. Se avete delle paure, se avete delle incertezze o vi sentite male, chiedete aiuto ai vostri angeli. Ovviamente qua si parla di angeli dal punto di vista metaforico, oppure dal punto di vista proprio se voi credete negli angeli potete affidarvi alle figure alle quali vi affidate solitamente. Ma potrebbe anche trattarsi di delle persone che sono particolarmente pure di cuore e che potreste trovarvi intorno. Se ancora non le avete incontrate potrebbero arrivare a breve. Queste persone potrebbero essere considerate quasi degli angeli sulla terra, possiamo dire. Quindi chiedete aiuto a questa persona o queste persone se ne avete intorno. Potreste anche affidarvi a una figura professionale ovviamente. Però quello che vi viene detto qui è chiedete aiuto per acquittare la vostra mente, per vedere la visione più reale delle cose. Perché in realtà voi siete sulla strada giusta, è soltanto che non ve ne accorgete. Quindi se avete bisogno di qualcuno che vi aiuti potete fare questo. In ogni caso non vi preoccupate, state andando verso la direzione dei vostri sogni. Io sono molto felice di avervi dato questo messaggio. Fatemi sapere se è resuonato con voi. Io spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 e io passo alla variante numero 5. Ciao a tutti, variante numero 5 con la labra dorite. Vediamo un po' che cosa dicono le tue carte. Hai una percezione errata degli eventi. Se ci credi. Ok, allora, secondo me qua abbiamo a che fare con persone che hanno una mentalità molto molto negativa, improntata su le cose che vanno male, molto pessimista. Ditemi se è così nei commenti. Se avete questo tipo di mentalità, dovete assolutamente cercare di alzare le vostre frequenze. Questa cosa non è che lo fate perché vi divertite. Magari avete vissuto qualcosa di veramente brutto, avete sofferto molto e quindi queste cose vi hanno un po' portati a pensare che tutto possa essere brutto. Insomma, però non è così. Sapete che evidentemente questo modo di pensare è semplicemente frutto di, non lo so, delle tossine che avete immagazzinato in tutto questo tempo e durante tutta questa vostra sofferenza. Dovete letteralmente purificarvi da tutta questa negatività, tutte queste tossine, tutte queste energie negative che non vi permettono di vedere le cose per quelle che sono. E infatti, dice la carta, hai una percezione errata degli eventi. Non è così come lo vedi tu. Tutto ciò che è arrivato nella tua vita so che può essere difficile da vedere quando stai male, però tutto ciò che è arrivato nella tua vita in realtà ti ha portato a evolvere. Anche le persone che ti hanno fatto stare più male sono delle persone, sono dei maestri, sono arrivati per insegnarti qualcosa di brutto, di bello, ma comunque, dal tuo punto di vista, perché poi è tutto funzionale, ma comunque qualcosa di utile. Quindi quello che ti viene consigliato è di non smettere di credere nella felicità, nella gioia, nella possibilità di creare qualcosa di bello per te, nelle cose positive. Non smettere di credere in questo. Perché non è così, è semplicemente una percezione errata che hai tu nella tua mente, della realtà che stai vivendo. Devi cambiare completamente questa percezione. E come fare? Riacquisendo quella che è la fede semplicemente nella vita, in te stesso, in te stessa anche, e in tutte le cose in cui hai sempre creduto. Perché qui c'è veramente una distorsione. Potresti avere anche dei pensieri ossessivi su determinate cose, magari pensieri scaramantici ossessivi. Queste cose succedono a volte quando si acquisisce una mentalità tanto negativa. Quindi attenzione, perché queste cose non fanno altro che depauperarti della tua energia vitale e non ti fanno arrivare ai tuoi obiettivi, non ti fanno vivere serenamente. Questa energia è veramente da purificare tantissimo. Ti consiglio di cercare di fare delle tecniche di meditazione magari, tipo la mindfulness, quindi per svuotare completamente la mente. Questa cosa potrebbe essere molto utile. Oppure anche semplicemente la focalizzazione su quelle che sono le cose positive della vita. Quindi non vedere solo le cose negative. Cerca di focalizzarti anche su quelle positive. Perché qui abbiamo proprio che ci devi credere. Cosa vuol dire questa carta? Questa carta parla della mente quantica anche, e quindi ci vuole dire che se noi ci convinciamo che qualcosa sia negativo, allora la realtà praticamente andrà a confermare quello che noi crediamo. Se invece noi ci concentriamo sulle cose positive, la mente e la vita di conseguenza andrà a confermare quelle cose. Quindi cerca di concentrarti, scegli tu su cosa concentrarti, ovviamente. Cerca di concentrarti su qualcosa di positivo, se posso permettermi. Perché quello che stai creando è solamente praticamente un circolo vizioso. Mentre devi cercare di creare un circolo virtuoso. Utilizza il potere quantico della tua mente in maniera costruttiva e non distruttiva. Questo è il messaggio per te. Cerca di essere sempre comunque... Come posso dire? Cerca di essere obiettivo. Più che... Non voglio dirti positivo, ma obiettivo. Obiettivo, perché non è possibile che sia tutto così catastrofico come tu lo vedi. Ok? E vedrai che la realtà confermerà anche questo cambiamento di pensiero. Fammi sapere se hai risuonato con te questa variante. Spero di esserti stata utile. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video. Io ti saluto e passo alla variante numero 6. Eccoci qua, variante 6 con il cubetto di gomma piuma. Andiamo a vedere cosa dicono le carte. Comportamenti tossici. Comunica chiaramente. Allora, questa carta parla di voi. E parla anche di una qualche relazione che avete. Potrebbe essere di lavoro e amicizia o di amore. Non fa differenza. In ogni caso avete avuto dei problemi con qualcuno, secondo me, da quello che vedo. E il fatto è questo. Non riuscite a comunicare in maniera chiara. Quindi quello che mi dicono le carte per voi è se avete dei conflitti o delle discussioni cercate di comunicare in maniera più chiara possibile. Comunicate chiaramente quello che provate. Perché qui abbiamo anche questa carta che ci parla di comportamenti tossici ma inconsapevoli. Quindi voi potreste tendere ad avere dei comportamenti tossici senza rendervene conto inconsapevolmente. E poi questo rovinare i rapporti. E perché avete questi meccanismi tossici, questi comportamenti tossici? Perché non riuscite a validare le vostre emozioni e poi a comunicarle chiaramente agli altri. In maniera chiara e in maniera limpida così che possano capire che cosa voi provate e comportarsi di conseguenza. Dovete solo riuscire a imparare a fare questo e poi potrete avere dei rapporti molto più distesi, molto più armoniosi, assolutamente. Cercate anche di vedere quelli che possono essere i vostri meccanismi tossici. Molto spesso anche, per esempio, i dipendenti affettivi hanno dei comportamenti tossici. Molto spesso tendono magari a richiedere qualcosa agli altri, per esempio affetto, considerazione, eccetera, in maniera ambigua, ad esempio. Quindi non esplicita, non chiara. Infatti qua abbiamo la carta che dice comunica chiaramente. Non chiara e poi magari, se l'altro non capisce, lo accusano di essere quello che non vuole dargli le attenzioni oppure non è presente. Ecco, molti dipendenti affettivi fanno questo. Quindi attenzione a questi comportamenti qua, perché sono deleteri per voi e anche per gli altri. Non avete colpa, perché se vi comportate in questo modo, evidentemente perché avete sofferto o avete imparato che potevate fare solo così. Però adesso siete adulti ed è arrivato il momento di cambiarli questi comportamenti. Proprio perché in questo modo siete più autentici con voi stessi e con gli altri e potete costruire dei rapporti migliori. Se avete bisogno di farvi aiutare da qualcuno, magari potete affidarvi a una figura professionale per farvi semplicemente vedere queste cose, quindi aprire gli occhi su questi meccanismi. Se non riuscite a farlo da soli, oppure magari da qualche amico, o potreste anche proprio chiedere alla persona in questione quella che sta nel conflitto, di farvi vedere quando avete dei comportamenti tossici. Se la persona non è in grado di riconoscerli, ad esempio, potreste chiedergli di farvi sapere come si sente. Quindi anche questa persona in modo che comunichi chiaramente quello che prova. Da quello che prova questa persona, voi potrete dedurre se avete avuto dei comportamenti tossici o meno. Questo è quello che potete fare per migliorare il rapporto, per guarire il rapporto. Cercate di fare questa cosa perché, secondo me, potreste veramente avere dei rapporti sani e equilibrati. Nel momento in cui inizierete imparerete a comunicare più chiaramente. Fatemi sapere se è risuonato questa variante, spero di esservi stata utile. Noi ci vediamo domani sempre alle 20 con un nuovo video e intanto vi auguro una bellissima serata. Ciao ciao!